Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto ed un sincero augurio di buona Pasqua. Questo videocorso nasce dall'esigenza di mettere a fuoco le ultime novità introdotte da Google in due dei suoi principali applicativi all'interno di Google Workspace for Education, la nuova denominazione della Google Suite for Education. I due applicativi di cui parlo sono Google Meet per la didattica sintrona e Google Calendar che è il classico calendario Google mediante il quale pianifichiamo incontri, riunioni ed altro. Allora, intanto, e le tante domande pervenute dai colleghi mi fanno riflettere su come ciò non sia scontato, controllate, controlliamo in alto a destra o perché riconosciamo l'icona, ma se non c'è perché con un clic riconosciamo magari la sequenza degli account memorizzati nel browser controlliamo di utilizzare il giusto account scolastico, quello cioè che dopo la chiocciola abbia il nome della nostra organizzazione scuola, non un chiocciolagmail.com perché ricordiamo che la policy, le condizioni d'uso di Google Workspace prevedono che tutti parlino la stessa lingua, docenti ed alunni, ok? Comunque, no Gmail. A questo punto, spostando il mio faccione, cliccando sul pulsante nuova riunione ho ora tre opzioni. Il clic sul più è quello per avviare una riunione, un meeting ora e subito. Dunque, tendenzialmente sconsigliato se non appunto per un incontro informale, rapido. Ho sentito un collega e gli dico, guarda, facciamo due chiacchiere ora su Meet, dai, mentre ci siamo. Altrimenti, crea una riunione da avviare in un secondo momento, mi permette di generare un URL, cioè un intero indirizzo relativo ad un meeting. Cliccando sui due quadratini io posso copiare tale indirizzo e dunque posso poi comunicare, inserire in Google Calendar questo indirizzo per un meeting appunto successivo. Vado a chiudere con X questo riquadro ora. La modalità più consona naturalmente, nonché quella molto più gestibile, è quella di pianificare mediante Google Calendar. E allora, cliccando su nuova riunione e cliccando qui su pianifica in Google Calendar, io mi trovo la consueta finestra del calendario Google e osserviamo meglio. Immaginiamo che questo sia un... che questa sia anzi la convocazione ad un incontro, un corso che terrò domani alle 17, rivolto magari ai colleghi. Allora aggiungo il titolo. Quindi in realtà vado a digitare incontro 1. Perché no? Ciò che scrivo lì rimane poi laddove io registri come titolo della registrazione salvata sul drive. Contro 1. Corso. Di formazione di DI. Dopodiché, intanto, se vogliamo agire su opzioni un pochino più restrittive, merito alla privacy, noi possiamo deselezionare i quadratini, invitare altre persone, vedere l'elenco invitati, così che ognuno riceva un invito e tale invito venga percepito come personale. Valutazione che lascio a voi. In realtà quello che ci interessa è, naturalmente, decidere quando si terrà questo nostro incontro, ora simulo, di tenerlo appunto domani. Vedete la MLPM, dunque la gestione antemeridiana oppure post. meridiana, quindi appunto pomeridiana tradizionale, per cui le 17 diventano le 5 PM. Andiamo a cliccare, eccole qua. Per cui terminiamo alle 7 PM, dunque abbiamo un blocco da due ore. Attenzione bene. Abbiamo già, e laddove non ci sia, clicchiamo sul pulsante azzurro che a quel punto si chiama aggiungi videoconferenza di Meet, controlliamo l'indirizzo presente, ma clicchiamo sull'ingranaggio. L'ingranaggio è importante perché se io deseleziono il quadratino accesso rapido, attenzione bene, così facendo, l'organizzatore deve essere il primo a partecipare, questa prendiamola come regola generale, sempre. Solo le persone invitate dall'organizzatore, con l'apposita funzione, partecipano senza chiedere l'ammissione. Tutti gli altri utenti, anche interni all'organizzazione, devono chiedere di partecipare. E solo gli organizzatori possono fare la chiamata di una riunione. Clicco su salva per confermare tale impostazione. Decidiamo, a questo punto noi, naturalmente, se far arrivare una notifica dieci minuti prima dell'incontro, o se invece sia meglio far pervenire una email, magari quindici minuti prima dell'incontro. Ora cerchiamo di non essere molesti perché noi potremmo aggiungere sia una notifica che una mail promemoria, ma va bene così. Ed è un bel gesto in termini di netiquette, eleganza comportamentale sul web, quella di aggiungere la descrizione. Descrizione che può essere, ricordo a tutti i colleghi e i colleghi, di accedere con l'account istituzionale, di utilizzare un microfono cuffia e di utilizzare il pulsante mano, laddove si utilizzi naturalmente Google Meet preferibilmente da computer e da browser per prendere la parola. Inseriamo lì le indicazioni che vogliamo trasmettere. Con la graffetta possiamo anche allegare, ad esempio, un verbale, un ordine del giorno, eccetera, eccetera. Fatta questa operazione, cosa manca? Gli invitati. Per cui in questo caso io vado a scegliere, per esempio prendo una collega, non me ne voglia, ma in realtà la prendo così per simpatia, era anche la prima dell'elenco. La invito a questo punto, cliccando sul mio salva, vedete naturalmente che Google mi ricorda di inviarle o non inviarle una mail di segnalazione che le ricorderà, insomma, questa mia azione. Ora io clicco su torna alle modifiche perché non completo, ecco, questa nostra operazione. D'accordo? Allora, anzi, guardate un pochettino, a questo punto io rimuovo con la X l'invitato. Qua sono in perfetta solitudine, clicco su salva. Ed in perfetta solitudine, cliccando su venerdì 2, vedete che ho incontro 1, segnato il mio calendario. Cliccando su partecipa con Google Meet, che cosa accade? Naturalmente ora non sorprendiamoci, la videocamera non mi potrà riconoscere perché avete già un cartotto in bella vista, dunque 2, insomma, sono obiettivamente troppi. Clicchiamo su partecipa. Siamo all'interno di una normale sezione di Meet. Ricordo di utilizzare sempre lo scudo con il lucchetto, i controlli dell'organizzatore. D'accordo? L'eccesso rapido, come vedete, è disattivato, lo abbiamo scelto noi. Inoltre, blocchiamo la condivisione schermo da parte degli alunni. A questo punto, l'altra novità riguarda la chiusura della stanza. Quando io clicco sulla cornetta rossa ed era ora che arrivasse questo tipo di novità, cosa facciamo? Non clicchiamo chiudi solo la tua chiamata, ma termina la chiamata. Fermo restando, e lo dico in maniera chiara, che la procedura corretta per convocare una lezione sincrona è quella di entrare ed avere i miei alunni, cioè il mio corso su Classroom. Prima della lezione, prima della lezione, clicco sull'ingranaggio del corso su Classroom. Rendo visibile agli studenti il link Meet, clicco su Salva, e tutti i miei alunni all'ora corretta entrano in Classroom e, con il pulsante a forma di telecamerina, accedono da qui. Questa è la convocazione corretta della lezione sincrona, anche perché a quel punto sono entrati per forza con l'account istituzionale. Quando la lezione è terminata e ho terminato la chiamata per tutti, torno sull'ingranaggio e vado a rendere non più visibile questo link agli studenti. Addirittura, per ulteriore prudenza, di tanto in tanto io suggerisco di cliccare sulla tendina e cliccare Reimposta per modificare ulteriormente questo indirizzo, questo URL. Clicchiamo su Salva e come potrete vedere, ora qui ho preso un mio corso a caso, l'occhio è sbarrato per cui a questo punto gli alunni che cercassero di accedere qui, da soli magari non ne hanno la possibilità, non ne avrebbero la possibilità. Bene, come abbiamo osservato, piccole novità, piccoli dettagli che però per un uso professionale corretto da parte nostra nei confronti degli alunni, degli applicativi in contesto DAD o DD sono importanti, perché ricordiamocelo, noi dobbiamo essere i timonieri in termini di competenze digitali della nostra classe e la DAD e la DD entrambe vanno appunto esercitate da parte nostra con la massima professionalità e competenza digitale. Vi rinnovo quindi gli auguri di buona Pasqua e vi do sin d'ora l'appuntamento al prossimo videocorso. Ciao da Andrea Cartotto, a presto!